Ma di questi incidenti sono all'ordine del giorno qua. Oh, dieci minuti prima, un altro. Dieci minuti? Che è successo questo? Un altro incidente? Tre auto coinvolte nell'incidente avvenuto sulla statale 127 bis allo svincolo per Montagnese, l'ultimo di una lunga serie negli ultimi tempi a causa del tratto stradale particolarmente insidioso e il traffico consistente a tutte le ore. La dinamica del sinistro è quella di un tamponamento a catena. A riportare conseguenze fisiche solo i passeggeri di una delle tre vetture condotti al pronto soccorso da un'ambulanza del 118, sono intervenuti due pattuglie dei vigili urbani che hanno svolto i rilievi e regolamentato la viabilità e i vigili del fuoco che hanno bonificato la sede stradale, resa pericolosa da perdite di olio e di carburante.